Sì, ho lodato Gesù Cristo, un caro saluto a voi che mi ascoltate, ma che ascoltate soprattutto la parola di Dio. E oggi ci dice di compiere tutto nel segreto, tutto vuol dire le opere della giustizia, che sono riassunte nell'elemosina, la preghiera e la penitenza. Quando pregate, quando digiunate, quando fate l'elemosina, tutto avvenga nel segreto, non sappia la destra quello che fa la sinistra. E il Padre vostro, che vede nel segreto, vi ricompenserà. Questo individua quella che è la spiritualità profonda di noi credenti. La spiritualità profonda è quella che ha una motivazione di opere che sono quelle della giustizia. La giustizia, nel senso più ebraico della parola, sono le opere che provengono dalla volontà di Dio. Il giusto, noi chiameremo adesso più il santo, no? Santo è il purificato, o colui che è puro. Il giusto è colui che compie le opere secondo la volontà di Dio. Dunque le opere della giustizia sono le opere che sono di Dio. E per essere di Dio, dunque, devono essere fatte tra noi e Dio. E la motivazione è essere graditi a Lui e compiere quello che a Lui consono. Essere nuovi i mezzi di raggiamento della sua volontà di bene per gli uomini che si serve delle nostre libertà. La nostra volontà di compiere il bene. diventiamo dunque così spiriti intelligenti e che vogliono compiere la volontà di Dio in questa libertà di servire Dio. Tutto quello che conta è Dio. La motivazione è Dio. E le opere che si fanno, si fanno perché è bene, è giusto, è bello raggiungere con il bene di Dio chi è nel bisogno, nella fame, nella disperazione, nell'angoscia, nella prigionia, nella nudità, nel freddo. Quelle che si chiamano le opere di misericordia corporale e spirituale. Queste opere, dunque, sono fatte per amore del prossimo, ma la grande spinta, la motivazione, il motore interiore è Dio che opera in noi ed è opera di giustizia, dunque anche di santità, al fine, compiere ciò che Dio ci chiede di compiere, per dare gloria a Lui. Il segreto, dunque, è quello che ci custodisce dalla vana gloria, che è la gloria di noi stessi. La gloria di Dio è l'uomo vivente, quindi la gloria di Dio si riflette sui nostri volti perché Dio si compiace di vivere ed operare pienamente nella sua creatura, nel creato lo fa attraverso le sue leggi, nell'uomo, attraverso l'adeguamento libero della volontà alla sua legge, la scelta di servire Dio. Dunque, noi siamo chiamati a distogliere continuamente le tentazioni basse della vana gloria, cioè farci apprezzare dagli altri e fuggire da quello che è il vizio della ipocrisia, per cui l'opinione che gli altri hanno di noi è più importante sopra ogni cosa, soprattutto sulla sostanza di essere rispetto all'apparire. La doppia vita è essere in privato qualcosa che non è né giusto né santo, ma l'opinione degli altri è quello che conta e dunque salvaguardare questa immagine così importante ai nostri giorni. Contro l'ipocrisia, dunque, è questo comandamento di Gesù, l'essere un tutt'uno con le nostre opere in tutta la nostra vita, perché siamo sotto gli occhi di Dio e per Lui agiamo e per Lui amiamo. Questo comandamento si contrappone apparentemente con con quell'altro di essere sali della terra luce del mondo e non possiamo rimanere nascosti, ma la lampada va messa sopra all'apparario e non sotto al moggio e la città sul monte deve essere veduta, perché gli uomini vedano la gloria di Dio. Ma questi atti di giustizia o di amore che sono pubblici, sociali e a volte anche di grande livello, in realtà sono intrisi, nutriti da una fitta corrispondenza segreta con Dio che è molto più ampia, è molto più densa, molto più quotidiana di quello che sono le singole opere che noi possiamo fare. Ci sono momenti, tempi e volontà di Dio in cui le nostre opere devono essere esposte, devono essere viste, perché la gente dia non a noi gloria, ma a Dio. E questo è quando Dio lo chiede. Gesù spesso fa miracoli e impone il silenzio. Poi ci sono altre situazioni in cui il miracolo è pubblico, laddove deve essere ben chiaro che è l'opera di Dio, deve essere ben chiaro che è Lui che agisce, perché ciò è messo in dubbio o perché l'idea di Dio si sta dissolvendo o è annebbiata o è addirittura coperta. Dio sa, li sono i momenti e le cose che devono essere messe in luce, ma la motivazione nostra segreta è sempre la più importante perché costituisce il nostro motore interiore alle opere di bene. E conservare questa segretezza fa sì che anche quando ci sia un'opera, possiamo chiamare pubblica, noi sappiamo distogliere molto facilmente l'interesse, l'ammirazione o l'attribuzione del merito da noi a Dio, senza cadere in quella falsa e untuosa umiltà che è ipocrisia, che è vanagloria, che è sempre nel nostro cuore come tentazione. L'uomo vivente, ma che vive nella grazia e nella giustizia, è dunque la gloria di Dio e questo viene intessuto nel segreto di ogni giorno, nelle anime nostre. Dio vi benedica.